Controllavaggio delle sabbie devi mettere questa manovra qui da filter su backwash, presente la parte contraria di dove si trova la leva. Aprire questa svalvola qui arancione e avviare la pompa. Quale? Dell'idromassaggio o... Filtraggio. Eh? Filtraggio. Solo filtraggio. Questa manovra qui la devi sempre fare con la pompa spenta, mai con la pompa accendente. Ah, certo. Quando hai fatto questa manovra qui, l'accendi, fai il controllavaggio che svuota il vaso di compenso. Cosa vuol dire? Svuota tutto quello di là? Sì, quello di là. Praticamente quando hai finito di svuotare, lei si spegne la pompa a filtraggio, giri questa leva qui, la chiudi e rimetti questa manovra qui in posizione filter. Sei a posto. Poi aspetti che si riempia il vaso e lei dopo riparte. Ok. Questa è una. Vediamo come si dovra... C'è un dito davanti, forse andava meglio. Quello lì sotto invece, per cambiare il... Lo devo cambiare io il... Ecco, qui veniamo noi, quello lì è un po' particolare da fare. Ok, allora mi fregui niente. Ok, allora mi fregui niente.